Musica Rotatoria in Viale Margherita, auto si ribalta dopo lo scontro, uomo in prognosi riservata. Comitato spontaneo di cittadini raccoglie firme per lo sgravio nelle bollette d'acqua. Grosse buche in via Boccaccio, un anziano già caduto lancia un SOS. 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, iniziative anche a Caltanissetta. Caltanissetta protagonista chiede le immediate dimissioni del presidente del Consiglio Comunale, Leila Montagnino. Guidava senza patente, arrestato un sorvegliato speciale. Cercatori di bellezza, itinerari di lettura e armonie sonore, l'iniziativa prende il via questa sera. Rally del Centro Sicilia, seconda edizione nel Vallone, domenica 22 novembre. A tra poco. Musica Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Rotatoria in Viale Regina Margherita, innesimo incidente. Un'auto si ribalta dopo lo scontro. I particolari. Non c'è tregua per la rotatoria di Viale Regina Margherita a Caltanissetta. Ieri sera, 19 novembre, poco prima delle 21, una Fiat Multipla con a bordo una persona si è schiantata contro il ciglio della rotonda, fino a ribaltarsi sul lato destro. Dalle prime informazioni sembra che l'unico ferito sia il conducente, ADG 49 anni, che è stato soccorso da altri automobilisti in transito e tirato fuori dall'abitacolo in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, che lo hanno medicato e trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte. All'uomo, infatti, è stata asportata la milza ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della sezione infortunistica, che hanno effettuato l'alcol test sull'automobilista. È una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la monovolume e rimuoverla dalla strada. È nato a Caltanissetta un comitato spontaneo di cittadini che ha deciso di raccogliere le firme per chiedere a Caltacqua lo sgravio nelle prossime bollette d'acqua a causa dei danni che hanno subito in queste ultime settimane. Sentiamo l'intervista. Ancora non è nato ufficialmente, ma si sta formando il comitato spontaneo dei cittadini. Questo comitato nasce dalla grave crisi idrica che c'è stata in queste settimane, dall'acqua torbida, da una serie di problemi. State raccogliendo delle firme per quale motivo? Bene, come sapete tutti, qua da diverso tempo in città attraversiamo tempi difficili, ma molto difficili per quanto riguarda carenza acqua che oltretutto nell'ultimo periodo l'acqua viene a mancare nei rubinetti da 7 a 10 giorni e in alcune zone anche di più per non dire che c'è stato un periodo che è stata erogata acqua non potabile. Come ben si sa l'acqua non potabile non può essere erogata, per cui noi, comitato cittadini spontanei che stiamo cercando di realizzare, facciamo questa benedetta raccolta firme per chiedere lo sgravio per quanto riguarda il canone di depurazione e un'unatantum per i disagi arrecati da Caltacqua per la mancata erogazione dell'acqua stessa. Mi auro che l'amministrazione comunale faccia la sua parte, ma lo faccia serio, con azioni forti, cercando di fare valere quello che c'è scritto nel contratto ed eventualmente, se ci sono i presupposti, se il contratto può essere nullo, che si renda nullo. Mi scusi, ieri il sindaco ha detto che comunque lo sgravio in bolletta non ci sarà, che i danni verranno rimediati perché Caltacqua si è impegnata a rifare le condotte idriche del centro storico e di altri quartieri. Sì, io non capisco perché non ci può essere lo sgravio, perché ora parliamo da cittadini che siamo stanchi veramente di subire, paghiamo questa benedetta acqua a peso d'oro per poi mancare dai nostri rubinetti e sentirci dire che non ci può essere né una tantum né tantomeno lo sgravio sul canone acqua. Dico, signor sindaco, cerchiamo di darci una smossa, siamo stanchi, veramente non sopportiamo più questa situazione. Non lo capiamo perché non ci può essere una restituzione sulla bolletta. Chi volesse firmare, dove può farlo? Allora, la raccolta firme sarà fatta domani in piazza Garibaldi dalle ore 9.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle 17 alle 19.30. E adesso la nostra rubrica SOS TCS a lanciare un appello a un residente di via Boccaccio. 20 novembre, giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza. Iniziative anche a Caltanissetta, la scuola Leonardo Sciascia. Presenta ovviamente l'UNICEF. Quanto è importante tutelare i bambini e coinvolgerli in queste iniziative? Benissimo, abbiamo oggi in tutto il mondo si celebra la ventisesima giornata dell'infanzia e dell'adolescenza approvata all'ONU il 20 novembre, come abbiamo detto. E questa scuola oggi riceverà la nomina ufficiale di scuola amica, in quanto ha percorso nell'anno scolastico scorso i nove passi richiesti e il MIUR, quindi il Ministero, assieme all'UNICEF lo hanno nominato. Io oggi avrò il piacere e l'onore di consegnare questo attestato. Noi ci auguriamo che al più presto questa scuola diventa pure scuola ambasciatrice UNICEF, di modo che possa ancora contribuire bene a portare avanti i diritti dei bambini. Quali iniziative questa mattina? Oggi è il 26esimo anno dalla dichiarazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La scuola non si può esimere dall'evidenziare l'importanza di questa ricorrenza. Quindi noi con i nostri ragazzini, sia di scuola dell'infanzia che di scuola primaria, abbiamo fatto già stamattina, verso le 9.30, una sfilata attorno alla scuola, nel quartiere nostro, di appartenenza nostra, con i colori anche della bandiera francese, dati gli avvenimenti degli ultimi giorni, gli avvenimenti tristi e luttuosi, per dare il messaggio della pace. Pace è intesa come solidarietà. L'UNICEF, che con noi collabora da tanti anni, nella persona del signor Pirrello, che è il presidente provinciale, noi abbiamo più volte contribuito con attività e manifestazione dei nostri alunni alla celebrazione delle giornate significative come questa. In particolare ci soffermiamo sulla solidarietà, valore fondamentale da far mediare ai bambini fin dalla tenere età e soprattutto da approfondire con i più grandi, quarta e quinta elementare. La sfilata è stata gioiosa, tanti colori, una festa, musica e simboli della pace e adesso stiamo dando la parola ai bambini. Loro si esprimeranno con poesie e con canti relativi proprio alla pace, alla solidarietà, alla solidarietà con altri bambini che non hanno il cibo, non hanno le cure, non hanno tutto ciò che i nostri bambini invece hanno in abbondanza. E quindi siamo qua per continuare la nostra festa in questo secondo momento. 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, iniziative anche a Caltanissetta. Alla luce degli episodi avvenuti a margine, in sede di conferenza dei capigruppo, in cui il presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, Leila Montagnino, in un vibrante dialogo con il consigliere Adornetto, ha proferito all'indirizzo dello stesso una frase che lo definiva come terrorista dell'ISIS o ascrivibile alla stessa, Caltanissetta protagonista chiede le immediate dimissioni del presidente del Consiglio Montagnino. Troppo grave, troppo lesiva dell'onore di un consigliere comunale quella frase, irricevibile nemmeno fra amici al bar, per ragioni perfino troppo ovvie. A leggere quanto riportato da alcuni organi di stampa, la stessa presidente dice che il fatto non è vero e che mai ha pronunciato questa frase. A questo punto, siccome scriviamo perché assolutamente certi del fatto, prosegue Caltanissetta protagonista, c'è pure l'aggravante della falsità. E sarebbe la seconda volta in pochi giorni che la presidente Montagnino si rende protagonista di clamorose smentite. Ma tralasciando il passato, resta adesso questo episodio inquietante, violento e offensivo, oltre ogni limite nei confronti di un collega. Non possono esserci provocazioni di verbi o diversi punti di vista che possano permettere per reazione di apostrofare un consigliere comunale in quel modo. E far rabbia a constatare che in pochi si siano sollevati di fronte a questo increscioso fatto. Tutti omertosi, tutti silenti, tutti normalizzatori. Il presidente del Consiglio è la seconda carica istituzionale della città. Né a lei né a nessun altro è permesso di assumere atteggiamenti dispotici e offensivi. Invece di convincere presenti e non che voleva dire altro, che era stata provocata, abbia la dignità di dire la verità fino in fondo. Se non vuole dimettersi senza possibilità di irrevoca, si presenti almeno in consiglio comunale da dimissionaria. Dica al civico consesso come stanno le cose e poi il consiglio comunale sovrano deciderà. Caltanissetta protagonista. Guidava senza patente, arrestato un sorvegliato speciale, i particolari. I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Gela hanno tratto in arresto. Nella serata di ieri, 19 novembre, Carmelo Vella, 54 anni, pluripregiudicato, panettiere gelese. Durante il controllo del territorio, nelle zone particolarmente sensibili della città, i carabinieri hanno fermato un soggetto alla guida di un quadriciclo Renault adibito alla vendita di gastronomia da asporto. L'uomo sorvegliato speciale, con obbligo di soggiorno, è stato colto alla guida senza patente, perché è revocata per mancanza dei requisiti morali. I militari quindi lo hanno identificato in Vella, soggetto già noto alle forze dell'ordine. L'arrestato è stato quindi messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha ordinato la sottoposizione agli arresti domiciliari, nell'attesa della celebrazione del giudizio direttissimo. Il controllo del territorio, anche in questo caso, ha dimostrato la sua efficacia nel contrasto all'illegalità, nonché nella gestione dei soggetti colpiti da misure di prevenzione. Su richiesta di intervento pervenuta al 113, gli agenti della sezione volanti di Caltanissetta sono intervenuti in contrada Gibilgabib per dirimere un conflitto tra due parenti. Giunti sul posto, hanno preso contatti con un allevatore di pecore, il quale ha riferito agli agenti che alcune pecore del proprio gregge si trovavano nel recinto dell'allevamento confinante, di proprietà di un suo parente, e che non gliele voleva riconsegnare. L'uomo ha spiegato ai poliziotti che a seguito di successione testamentaria la proprietà di un allevamento di pecore appartenenti alla stessa azienda era stata divisa tra due eredi. Ma le pecore, ogni volta che sono condotte al pascolo fuori dai recinti delle rispettive proprietà, si riuniscono naturalmente nell'originario gregge nel quale sono cresciute e che sono abituate a seguire. Questa situazione crea discussioni tra i nuovi proprietari che si trovano nell'impossibilità di gestire l'istinto naturale degli animali. Da ultimo alcune pecore del proprio gregge, dopo un'uscita al pascolo, si sono unite all'altro gregge e il suo parente vicino non ha ancora provveduto a restituirgliele. Gli agenti hanno sentito anche la versione della controparte. L'uomo ha confermato che probabilmente alcune pecore del gregge vicino si trovavano tra le proprie e che nei prossimi giorni alla presenza di un operatore dell'Associazione Allevatori eseguirà un conteggio delle pecore del proprio gregge, applicando degli orecchini identificativi per meglio riconoscere le proprie negli spostamenti esterni. Calmati gli animi, i poliziotti hanno invitato i due condententi a risolvere la questione in modo pacifico e in base a quanto previsto dalla legge. Questa mattina presso l'aula Magna della scuola primaria Oasi Cristo Re di Caltanissetta l'ispettore superiore di polizia Salvatore Falzone dell'ufficio stampa della Questura, unitamente alle insegnanti, tra cui la tutor Radele Mosca, ha incontrato circa 50 alunni delle classi quinte per parlare di cyberbullismo e uso consapevole della rete. I servizi della rete, quali sono i reati più gravi commessi online, cos'è l'adescamento, il sexting, il bullismo e il cyberbullismo, ma soprattutto come difendersi e quali sono le regole del mondo virtuale e i pericoli legati alla dipendenza da internet. Questi sono alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell'incontro, considerati i sempre maggiori rischi a cui sono esposti i bambini e gli adolescenti con l'utilizzo delle nuove tecnologie e la navigazione su internet. La Polizia di Stato, anche per l'anno in corso, ripropone gli incontri con studenti delle scuole medie e superiori per rendere più efficace l'azione di prevenzione. Cercatori di bellezza, itinerari di lettura e armonie sonore, prende il via la seconda edizione. Su richiesta di intervento pervenuta al 113 gli agenti della sezione volanti di Caltanissetta sono intervenuti in contrada Gibil Gabib per dirimere un conflitto tra due parenti. Giunti sul posto hanno preso contatti con un allevatore di pecore, il quale ha riferito agli agenti che alcune pecore del proprio gregge si trovavano nel recinto dell'allevamento confinante di proprietà di un suo parente e che non gliele voleva riconsegnare. L'uomo ha spiegato ai poliziotti che a seguito di successione testamentaria la proprietà di un allevamento di pecore appartenenti alla stessa azienda era stata divisa tra due eredi. Ma le pecore, ogni volta che sono condotte al pascolo fuori dai recinti delle rispettive proprietà, si riuniscono naturalmente nell'originario gregge nel quale sono cresciute e che sono abituate a seguire. Questa situazione crea discussioni tra i nuovi proprietari che si trovano nell'impossibilità di gestire l'istinto naturale degli animali. Da ultimo alcune pecore del proprio gregge, dopo un'uscita al pascolo, si sono unite all'altro gregge e il suo parente vicino non ha ancora provveduto a restituirgliele. Gli agenti hanno sentito anche la versione della controparte. L'uomo ha confermato che probabilmente alcune pecore del gregge vicino si trovavano tra le proprie e che nei prossimi giorni, alla presenza di un operatore dell'Associazione Allevatori, eseguirà un conteggio delle pecore del proprio gregge, applicando degli orecchini identificativi per meglio riconoscere le proprie negli spostamenti esterni. Calmati gli animi, i poliziotti hanno invitato i due condententi a risolvere la questione in modo pacifico e in base a quanto previsto dalla legge. Questa mattina presso l'aula Magna della scuola primaria Oasi Cristo Redi, Caltanissetta, l'ispettore superiore di polizia Salvatore Falzone, dell'ufficio stampa della Questura, unitamente alle insegnanti, tra cui la tutor Radele Mosca, ha incontrato circa 50 alunni delle classi quinte per parlare di cyberbullismo e uso consapevole della rete. I servizi della rete, quali sono i reati più gravi commessi online, cos'è l'adescamento, il sexting, il bullismo e il cyberbullismo, ma soprattutto come difendersi e quali sono le regole del mondo virtuale e i pericoli legati alla dipendenza da Internet. Questi sono alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell'incontro, considerati i sempre maggiori rischi a cui sono esposti i bambini e gli adolescenti con l'utilizzo delle nuove tecnologie e la navigazione su Internet. La Polizia di Stato, anche per l'anno in corso, ripropone gli incontri con studenti delle scuole medie e superiori per rendere più efficace l'azione di prevenzione. Cercatori di bellezza, itinerari di lettura e armonie sonore prende il via la seconda edizione. Il Liceo Classico Mignosi di Caltanissetta organizza la seconda edizione di Cercatori di bellezza, itinerari di lettura e armonie sonore. Gli appuntamenti si terranno qui al Vescovado. Il primo appuntamento è questa sera alle 18, il tema amore, passione e altri rimedi. Ci saranno anche degli spazi musicali. stasera si esibirà Giorgia Anzalone, Michi Giordano e parteciperà inoltre il gruppo musicale della scuola secondaria a Cordova. Ma il cartellone prevede anche altri appuntamenti, ovviamente. Sì, sono tutti appuntamenti di lettura e musica. Letture scelte dai nostri ragazzi sulla tematica di volta in volta proposta, testi di poesia o di prosa e poi musica di volta in volta curata da un artista di seno diverso o da una scuola media della città diversa. Il 10 dicembre sarà la volta della Scuola Rosso di San Secondo. Il tema sarà l'armonia come antidoto ai mali sociali. Il 17 dicembre si esibirà la nostra corale del liceo Armonia, la corale del liceo Mignosi, sul tema del Natale. Salteremo l'appuntamento di gennaio per ritrovarci a febbraio con la Scuola Media di San Cataldo Carducci e poi l'8 marzo ci sarà un convegno con tre scrittori del Nisseno molto importanti che sono Salvatore Paci, Adriano Nicosia e Stefania Rinaldi che hanno scritto altrettanti romanzi con protagonisti e alcune figure femminili molto forti. Quindi abbiamo voluto dedicare proprio questa giornata della donna a altri artisti nisseni. Per l'occasione ci sarà anche il soprano Giuliana Consiglio e Fabrizio Aquilina al pianoforte. Proseguiremo poi il 7 aprile con il tema Abbandoni e ritorni e con l'esibizione di alcuni cantanti della Scuola di Musica Tecne curati da Maria Angela Rizza e poi concluderemo con il premio annuale Michele Dario Carvello, il premio della nostra scuola che è un concorso interno la cui premiazione però sarà aperta al pubblico e quest'anno vedrà la partecipazione anche di alcuni allievi del Teatro Stabile Nisseno. C'è da dire che queste sono delle serate in cui i ragazzi appunto porteranno in evidenza dei lavori che però svolgono in classe con i docenti. Esattamente, c'è tutto un lavoro preventivo in classe perché comunque lo scopo innanzitutto didattico è quello un po' di stimolare la lettura e la passione per la lettura e anche la riscoperta di classici che vengono appunto analizzati in classe. Si correrà domenica 22 novembre la seconda edizione del Rally del Centro Sicilia. Sentiamo. Domenica 22 novembre si corre la seconda edizione del Rally del Centro Sicilia. Cosa prevede il percorso? Quest'anno ci siamo spostati sulla zona del Vallone. L'epicendro della manifestazione sarà Mussomeli, città che ospita la partenza, il parco assistenza e i riordini e nonché l'arrivo. Le prove speciali invece saranno una inedita Mussomeli acqua viva, una prova molto interessante in discesa e poi una nostra classica che è la Campofranco-Sutera con una variazione rispetto al percorso abituale perché arriviamo proprio su nel paese di Sutera che è coinvolto questa volta veramente anche con un controllo a timbro. Un percorso particolare, i dei hanno la caratteristica di prove più corte rispetto ai rally normali ma questo ci ha evidentemente premiato molto anche questo cambiamento di aria, di interesse perché per la prima volta ritorniamo nel Nisseno a numeri di iscritti veramente elevato. abbiamo 75 equipaggi iscritti e negli ultimi anni questi numeri proprio non si vedevano più. Lo start? Lo start sarà domenica mattina alle 9 appunto dalla via Palermo di Mussomeli dove ritorneremo alle 16 con l'arrivo della prima macchina. Il principio attivo del Viagra può migliorare la sensibilità all'insulina nei soggetti che sono in una fase di pre-diabete con un rischio alto di sviluppare la malattia. È il risultato dello studio della Vanderbilt University School of Medicine di Nashville. L'insulino resistenza precede lo sviluppo del diabete di tipo 2 ed è caratterizzata da alti livelli di zucchero nel sangue perché l'organismo non riesce a produrre abbastanza insulina per eliminarlo. Il Sildenafil, il principio attivo del Viagra, potrebbe offrire una nuova strada per affrontare il crescente numero di diagnosi di diabete. Le brevi giornate invernali in cui fa buio prima scatenano l'aggressività, un meccanismo che in passato poteva conferire un vantaggio nei periodi in cui il cibo era più scarso. Ora però scopriamo che a far scattare maschi e femmine è un interruttore ormonale differente. Da uno studio condotto sui criceti, infatti, emerge che l'effetto inverno per le femmine sarebbe collegato a un meccanismo ormonale del tutto peculiare, La melatonina agisce direttamente sulle ghiandole adrenaliniche delle femmine per accendere un interruttore dell'aggressività stagionale che a cascata attiva una serie di ormoni chiave, un meccanismo del tutto diverso da quello che agisce sui maschi. Il lavoro, che chiarisce alcuni aspetti del legame tra ormoni sessuali e aggressività, potrebbe contribuire a progressi nel trattamento di questa forma di violenza negli esseri umani. Lo studio è pubblicato sul Proceedings of the Royal Academy B ed è filmato da ricercatori dell'Indiana University. in città in città in città in città